indovina chi è attenzione al grande ritorno di questi due trevi contro nando che al chi è ci regalano sempre gioie grandi gioie la trevisiani siamo poi siamo in equilibrio siamo 16 a 2 per me quindi comunque c'è tensione nell'aria vediamo se ci sono giocatori dell'ultima che bouchard andiamo col primo allora sì sì brignola giusto vediamo questo questo è tosto mi arrendo non lo so questo era brugman gastone gaston brugman sempre 1 a 0 greco cristo dlopoulos no 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 2 a 0 la sai nicolau dimitris nicolau e c'è il gran gol questa era proprio tosta 2 a 0 prossimo non ce l'ho lui che mestiere faceva mestiere trezzino esterno un fabbro un fabbro è un dolce siciliano cassata eccolo qua il 3 a 0 quando io al sassuolo me lo ricordavo la roba di 3 a 0 qua vediamo se la riprendiamo ne mancano tre puoi ancora pareggiare nando e puoi chiudere la trevi devo passare sotto al tavolo cappotto nel caso eh vediamo calma calma prossimo nando cornelius no 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 allora c'è da dire che ci assomiglia gagliolo no 4 a 0 s'avvicina il cappotto fa male fammi accorciare almeno fammi accorciare sì sì no più veloce 5 a 0 è un match equilibrato signori allo stadio olimpico di cronache sono bravo sto gioco ma 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 il prossimo il prossimo ultimo per evitare il cappotto attenzione certo sì no no smetti ricci sotto il tavolo under the table è il quadrato eccolo lì c'è un nandone sotto il tavolo vamos what ho 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 i ho i Grazie a tutti.